Non ci sarebbe stato alcun incontro segreto tra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino. Per smentirlo è proprio la showgirl venezuelana, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Mariana è stata intervista dal settimanale Novella 2000 dopo l'indiscrezione pubblicata da Chi relativa al presunto incontro segreto con l'ex marito di Belen. La Rodriguez omonima della più famosa Argentina, nega con un sorriso, non è vero che mi sono vista con Stefano De Martino. Non capisco come possano dire una cosa simile visto che non lo conosco nemmeno. Io De Martino non l'ho mai incontrato, davvero. Però se volete presentarmelo non c'è problema, ci mancherebbe. Pure perché mi hanno detto che è simpatico. Tra l'altro, Mariana è fidanzatissima con Filippo di Renzo, l'uomo che l'ha attesa fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per tutta la durata della sua permanenza nel gioco. Nemmeno il corteggiamento serrato di Stefano Bettarini è bastato a distoglierla da quello che ritiene essere l'uomo della sua vita. Era stato proprio il settimanale diretto da Signorini a lanciare la bomba. Nell'articolo in cui si parlava anche del presunto riavvicinamento tra Andrea Damante e Asia Nucetelli evento smentito seccamente da Giulia De Lellis il settimanale diretto dall'opinionista da GFVip aveva lanciato una bomba. Stefano e Mariana si sarebbero incontrati all'interno di un locale a Roma subito dopo la fine del reality e sarebbero fuggiti insieme nella notte a bordo di uno smart. Mariana, che ha già un compagno fuori dalla casa, ha smentito la notizia mentre De Martino, ancora Signor dopo la separazione da Belen, ha preferito restare in silenzio. In questo periodo, il ballerino lanciato da Maria De Filippi è impegnatissimo con la sua carriera di conduttore tv e non ha tempo per concedersi distrazione di sorta, nemmeno se hanno le fattezze dell'incantevole venezuelana. Chi se ne frega!